Stipulato in questura il protocollo d'intesa denominato Helios a favore dei uomini maltrattati con la società Nuova Generazione. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Francesco Simone, il commerciante d'auto ucciso lo scorso 7 dicembre, il presunto killer e il vicino di casa. Visita pastorale dell'arcivescovo Don Damiano presso il comune di Realmonte. Riconfermato all'unanimità il presidente della Confagricoltura di Agrigento, l'avvocato Rosario Marchese Ragona. Si è concluso a favare il progetto contro il bullismo e cyberbullismo presso l'Istituto Guarino, concerto in piazza con Leo Gasman e Chadell. La Fortitudo vince a chiusi per 91-94, risultato importante per la permanenza nella serie. La prossima partita con il Nardò il 26 maggio. Buongiorno e benvenuti con il nuovo appuntamento del nostro telegiornale di TVA Notizie. Sipolato oggi presso la questura di Agrigento, un protocollo d'intesa denominato Helios in favore di uomini maltrattati con la società Nuova Generazione. Il servizio. Siclato presso la Sala San Michele della Questura di Agrigento, un protocollo d'intesa denominato protocollo Helios tra la questura nella persona del questore Tommaso Palumbo e la cooperativa sociale Nuova Generazione, rappresentata dal presidente Laura Maria Rotolo e dalla coordinatrice del Centro Uomini Autori di Violenza, Anna Moroso. Le azioni previste dal protocollo nascono dall'Istituto dell'ammonimento del questore, previsto dalla legge rispetto alla violenza domestica e allo stalking. L'ammonimento è uno strumento importante che rappresenta un primo avvertimento rivolto ai soggetti maltrattanti che evidenzia il disvalore sociale e successivamente penale della loro condotta. L'ammonimento del questore punta a bloccare le recidive degli episodi di violenza di genere prima che questi diventano un crimine prevalentemente rilevante intervenendo direttamente sul maltrattante attraverso il suo inserimento in percorsi di recupero, rieducazione e quindi di riabilitazione, pertanto uno strumento di vera prevenzione. Con il protocollo Eilos, quindi oltre all'azione inibitoria rispetto alla retirazione di determinati comportamenti per i quali viene adottato l'ammonimento del questore, si aggiunge un ulteriore strumento che prevede per l'autore delle condotte censurate di intraprendere facoltativamente un percorso di rieducazione con il sostegno di un'equipe specializzata che lo potrà aiutare a prendere consapevolezza del disvalore sociale e dell'alesività degli atteggiamenti prevaricatori riducendo così il rischio di recidiva. Guardi, i dati sono assolutamente rilevanti ma sono comunque in linea con tutto quello che è la tendenza sia regionale che nazionale, non abbiamo un fenomeno di allarme da questo punto di vista ma abbiamo un fenomeno presente e su questo è importante per noi vigilare e naturalmente anche per tutti prendere in considerazione dell'esistenza di questi comportamenti e prendere in considerazione la necessità di cambiare mentalità forse, che è la cosa più importante. Dottoressa, come funziona il percorso? Il percorso è un invio ufficiale da parte della questura, dell'UEP, può esserci anche un accesso spontaneo da parte dell'uomo che apprende consapevolezza di un problema esistente e viene subito presente in carico con un lavoro individuale o un lavoro di gruppo con altri uomini che comunque hanno avviato questo percorso e ha una durata di 12 mesi comunque perché è un percorso lungo perché proprio vuol dire rivisitare il proprio vissuto, elaborarlo e prenderne consapevolezza. Questa persona viene eseguita da esperti? Sono dei psicologi che hanno fatto tutto un percorso di formazione specifica affiancati da un CAM famoso in Italia che è il CAM di Firenze, si sono formati lì per migliorare le proprie competenze sulla crescita in carico di questi uomini, autori di reato, comunque all'inizio di un percorso di reato. Dal dettaglio come si recupera un uomo maltrattante? Si recupera con un'elaborazione importante, un riconoscimento importante da parte dell'uomo che quello che è commesso è un reato e sulla possibilità che possa esserci una recidiva nuovamente e con un'escalation che tutti conosciamo. La divisione anticrimine che io appunto rego grazie al signor questore si occupa dell'istruttoria di tutti gli atti che ovviamente sono a firma del questore in questo caso nell'andare a esaminare la pericolosità sociale dei soggetti che vengono raggiunti nei procedimenti di ammonimento. I procedimenti di ammonimento che sono alla base di questa iniziativa che oggi noi abbiamo appunto che il questore insieme al Presidente della cooperativa sociale nuova generazione hanno stipulato che è appunto quello di intraprendere un percorso come appunto hanno detto di riabilitazione e di rilogazione. Quindi ogni in quel volta e quindi viene diciamo l'attività della questura e della divisione anticrimine ogni in quel volta si verifichino tutti quei fatti che portano a dover emettere un provvedimento di ammonimento e quindi di avvertimento della persona destinataria nell'ambito di quella che è la violenza domestica, quindi la violenza di genere, lo stalking o la violenza domestica, a quel punto accanto all'emissione del provvedimento di ammonimento ci sarà anche questa possibilità di essere... Svolta nelle indagini sull'omicidio di Francesco Simone, il colmenciante d'auto, ucciso lo scorso 7 dicembre a Favara, preso il presunto killer e il vicino di casa, il servizio. A Favara i militari del comando provinciale di Agrigento hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Agrigento, su richiesta della locale procura della Repubblica nei confronti di Stefano Nobile, di anni 58, residente a Favara, in quanto ritenuto gravemente indiziato di omicidio, detenzione illegale di armi, ricettazione di una pistola a canna corta. L'attività di indagine condotta dal nucleo investigativo del comando provinciale di Agrigento, diretta alla Procura della Repubblica di Agrigento, ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'uomo ritenuto essere stato delle indagini l'esecutore materiale dell'omicidio perpetrato ai danni di Francesco Simone del 54 avvenuto in data 7 dicembre 23 nel comune di Favara. In quella circostanza la vittima veniva colta di sorpresa mentre stava lavorando il terreno della propria abitazione rurale. Il Simone veniva attinto da numerosi colpi di arma da fuoco in diverse parti del corpo che ne hanno causato la morte. L'indagine possa in essere in seguito agli eventi, hanno così consentito di raccogliere elementi di colpevolezza a carico di Nobile Stefano accertare l'attualità delle esigenze cautelari nei confronti del predetto, inquadrandosi in movente dell'omicidio nell'ambito di una preesistente conflittuale rapporto tra vicini di casa in ordine alla materiale gestione di una strada, di un cancello che consentivano l'ingresso alle rispettive abitazioni rurali. Nel corso dell'operazione, che ha consentito l'arresto del Nobile, sono state eseguite perquisizioni personali, domiciliari, finalizzate alla ricerca di ulteriori fondi di prova, fatto salvere le responsabilità dell'arrestato, le quali non sono definitamente accertate e ultimate le formalità di rito, lo stesso è stato trasferito presso la casa circondariale di Agrigento a disposizione dell'autorità giudiziaria. Prestò l'identità Matteo Messina Denaro, slitta la sentenza per Andrea Buonafede, la nuova udienza è prevista per l'11 giugno 2024, la corrispondenza da Trapani. È stato rinviato all'11 giugno per le controrepliche della difesa e per la sentenza il processo d'Andrea Buonafede, il geometra di Campobello di Mazzara che ha prestato l'identità a Matteo Messina Denaro, consentendogli tra l'altro di curarsi nelle strutture sanitarie grazie ai falsi documenti. Andrea Buonafede deve rispondere di associazione mafiosa e nipote di Leonardo Buonafede, storico boss di Campobello, da sempre legato ai Messina Denaro. Buonafede avrebbe permesso al boss di condurre una latitanza tranquilla, prestandogli per l'appunto nome, cognome e tutti i dati anagrafici necessari per curarsi del tumore del quale era affetto. Ha acquistato la casa in cui il boss ha trascorso gli ultimi mesi della sua latitanza. Il geometra ha sostenuto di aver aiutato Messina Denaro per timore, era malato e non aveva più nulla da perdere, aveva paura di lui. Ma facciamo un passo indietro, 13 anni di carcere e questa è la richiesta di pena avanzata per il geometra sessantenne Buonafede. Una richiesta arrivata dai pubblici ministeri Gianluca De Leo e Pierangelo Padova al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo Rosario di Gioia, secondo quanto emerse nel corso delle indagini lo scorso anno. Buonafede avrebbe ceduto di fatto la propria vita consentendo all'ormai ex primula rossa di Cosa Nostra di continuare a vivere dal latitante pressoché normale. Il processo si svolge con il rito abbreviato e la richiesta tiene conto della riduzione prevista per lo stesso rito alternativo, un terzo della pena insomma. In ultima analisi per Buonafede la direzione distretto all'antimafia di Palermo ha proposto 18 anni. Nel corso della requisitoria i pubblici ministeri hanno sottolineato il ruolo svolto da Andrea Buonafede ed era stato proprio in occasione dell'arresto del boss che i carabinieri della rossa avevano trovato addosso a Messina Denaro un documento di identità intestato a Buonafede. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti il geometra avrebbe agevolato il capo mafia anche fornendo cellulari a sim card intestati a propri parenti, la madre molto anziana, la suocera e sostenendolo con strumenti di pagamento a lui intestati e durante tutto il percorso delle cure anche con la complicità del medico Alfonso Tumbarello e di un altro Andrea Buonafede, cugino omonimo dell'imputato e operaio del comune di Campobello di Mazzara. E l'arcivescovo Alessandro Damiano in visita pastorale nella città della Scala dei Turchi. Le interviste. Oggi visita pastorale alla comunità di Real Monte, visita durante la quale mi piace bussare alle istituzioni presenti nel territorio e certamente l'amministrazione comunale, la scuola che vedremo di recuperare nei prossimi giorni e le altre istituzioni presenti. Perché? Perché il vescovo bussa alle istituzioni civili presenti sul territorio? Per curare e mantenere quelle alleanze, alleanze educative che mirano a riflettere sulla passione per l'uomo e la cura, la promozione, la custodia del bene comune. Due aspetti che veramente possono educarci alla vita buona, per i credenti alla vita buona del Vangelo. Noi siamo onorati di aver ricevuto questa mattina il vescovo e sua eccellenza che con un discorso che ha toccato sicuramente i cuori di tutti, ecco, ci ha portato in una strada che è quella dei tessitori della speranza, come dice lui, dove a dare l'esempio sono gli adulti e i ragazzi, come dice Papa Giovanni Paolo II, potranno veramente trasformare le loro vite in dei capolavori. Ecco, questo è l'obiettivo in un luogo, il Real Monte, che ospita un sito, un monumento naturalistico di unica bellezza, pensate a 5 milioni e 300 mila anni, questo lo diciamo sempre perché dà la misura della responsabilità di un monumento naturalistico candidato a diventare patrimonio dell'umanità e che è stato riconosciuto come geosito recentemente. Che dire, Real Monte c'è, senza soluzione di continuità c'è l'amministrazione, ci sono le associazioni e si va avanti in squadra. Ringrazio anche Don Fabio, stamattina si è parlato di Beatitudini e voglio ricordare in questa occasione che appunto Don Fabio è stato accorto dalla comunità di Real Monte con un dono che ci ha portato da Lampedusa, era uno straccio delle beatitudini che noi conserviamo gelosamente presso la casa comunale in una piccola teca. Ecco, quello straccio rappresenta Real Monte, ossia una comunità che è in cammino, dove i tessitori di speranza ci sono e stanno lavorando, dove c'è una grande accoglienza, dove si cerca di dare l'esempio alle nuove generazioni, dove come ha detto David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo, i ragazzi fanno onore ai siciliani, i nostri ragazzi, quando hanno ripulito il sito, alla Sicilia e al mondo intero. C'è quell'amore per la bellezza, per la natura e soprattutto è improntata l'azione alla legalità che è la meta a cui noi facciamo riferimento. Abbiamo voluto far conoscere oggi all'Arcivescovo quella che è la realtà del CIF di Real Monte, il centro italiano femminile. Operiamo a Real Monte dal 2020, siamo donne, credenti e cittadine che operano con le donne e per le donne. Abbiamo voluto rappresentargli quella che è stata tutta l'attività che abbiamo svolto in questi anni, cercando di fare rete con tutte le altre associazioni e con le varie autorità presenti in loco e soprattutto abbiamo cercato di valorizzare quella che è la particolare figura della donna che si caratterizza per una particolare sensibilità, sensibilità che noi abbiamo voluto inserire in tutte le attività che abbiamo svolto nel corso di questi anni. Abbiamo fatto riferimento a delle frasi di Papa Francesco, di Papa Giovanni Paolo II e abbiamo voluto ricordare oggi, perché noi facciamo anche cultura della legalità, quello che sarebbe stato oggi il compleanno del giudice Giovanni Falcone. Siamo state contenti di questo momento sicuramente di grazia che è rappresentato dalla visita dell'Arcivescovo a Real Monte e lo ringraziamo per questo dono. E l'Assemblea Generale di Convagricoltura Agrigento, unita presso l'azienda agricola Fattoria Vassallo-Allicata, ha riconfermato all'unanimità per acclamazione l'Avvocato Rosario Marchese Ragona alla guida dell'Unione Provinciale per il quadriennio 2024-2028. Lo abbiamo intervistato. L'Assemblea Generale di Convagricoltura Agrigento, riunita presso l'azienda agricola Fattoria Vassallo-Allicata, ha riconfermato all'unanimità l'Avvocato Rosario Marchese Ragona alla guida dell'Unione Provinciale per il quadriennio 2024-2028. L'Assemblea, molto partecipata, ha espresso piena fiducia nel Presidente uscente, riconoscendo le doti di leadership, l'esperienza imprenditoriale e sindacale, nonché la capacità di rappresentare meglio gli interessi dell'azienda agricola e agrigentina. I soci di Agrigento che mi hanno dato fiducia per un'assemblea affrontata per l'affermazione hanno deciso di darmi l'onore di continuare il percorso intrapreso. Devo dire che per me è un grande onore, ma è un grande onore in un momento in cui l'agricoltura agrigentina, l'agricoltura siciliana tutta ha dei seri problemi. Quotidianamente noi siamo in contatto con l'assessorato, ahimè abbiamo un'ordinanza nazionale di emergenza del comparto agricolo perché in tutto questo c'è un cambiamento climatico in atto dove le nostre culture ne stanno risentendo enormemente. Abbiamo fiducia nelle istituzioni, nel governo regionale, nel governo nazionale, a che questo decreto di emergenza si trasformi in provvedimenti concreti verso la nostra agricoltura. Una gran bella cosa, una grande soddisfazione da parte mia, ma sicuramente un grande onore per portare a casa dei risultati per noi agricoltori. Presidente, lei concilia anche l'incarico regionale, quindi riesce a entrambi le cose impegnativi? Conciso l'incarico regionale, i problemi sono comunque gli stessi, gli interlocutori sono gli stessi, chiaramente a livello regionale c'è un ampio raggio perché ci facciamo carica della situazione di tutte le province, ma io devo dire ahimè che non c'è nessuna provincia che non abbia danni, non c'è nessun comparto che non abbia danni, lavoriamo a 360 gradi per tutte le province e per tutti i compagni. Ieri abbiamo avuto una riunione in Assessorato di Agricoltura, è stato convocato un tavolo di crisi dove come Conferegoltura abbiamo fatto le nostre proposte, oltre il decreto di emergenza nazionale e i provvedimenti che scaturiranno da qua a breve con un'ordinanza della protezione civile che probabilmente ricalcherà ciò che è successo ahimè in Emilia l'anno scorso. Abbiamo chiesto dei provvedimenti che l'Assessorato di Agricoltura può emettere nei confronti degli agricoltori siciliani e immagino il secondo bando sui laghetti collinari, già nella scorsa legislatura il precedente governo chiede ascolto alla nostra richiesta e ci fu un bando sui laghetti collinari, abbiamo chiesto un secondo bando, ma abbiamo chiesto anche la possibilità delle scavazioni di pozzi con un regime semplificato, con un regime burocratico semplificato, contando un contributo ai nostri agricoltori che ormai sono veramente al collasso, abbiamo chiesto l'azzeramento di bollette dei consorsi di bonifica, è inconcepibile che arrivino delle castelle salatissime dei consorsi di bonifica e poi di fatto acqua nelle nostre aziende non arriva, le vighe sono vuote, le condutture sono con la prodo e abbiamo chiesto anche nella nuova programmazione comunitaria di inserire misure sostenibili a salvaguarda dell'ambiente, quale la riconversione o la riduzione sensibile dei fitofarmaci perché non tutte le aziende possono fare biologico, c'è chi vuole salvaguardare l'ambiente riducendo i fitofarmaci, diamogli la possibilità con queste misure comunitarie di poterlo continuare a fare. Così come abbiamo chiesto la proroga delle scadenze comunitarie perché già il giugno 2025 è molto vicino, molte aziende ancora devono ricevere dei decreti finanziamenti di iniziative presentate qualche anno fa, diamo la possibilità ai nostri agricoltori, considerato il momento di crisi, la crisi di liquidità, il defigile riferimento di mano d'opera o di materiali di poter portare a compimento gli impegni che hanno preso. Quindi chiediamo, considerato lo stato di emergenza, che anche le scadenze comunitarie possano essere erogate. E si è concluso a Favara, presso l'Istituto Guarino, il progetto pilota 1 nessuno 100 Giga contro il bullismo e cyberbullismo, serata finale in piazza con Leo Gasman e Iscadè. Si è concluso a Favara, presso l'Istituto Comprensivo Gaetano Guarino, il campus che ha visto la partecipazione di 250 destinatari dell'azione progettuale impegnati in laboratori creativi integrati ed intergenerazionali, condotti da esperti, partner del progetto, testimoni del mondo della cultura, della musica, dello sport, denominato 1 nessuno 100 Giga, presenti la scrittrice Simonetta Agnello Orbi, la campionessa di sport Parolino, il giornalista Francesco Pira, Marco Sabatteri, l'influencer Nadia Lauricella, la pittrice Amelia Russello, l'ex calciatore del Palermo e diverse squadre di Serie A, Salvatore Bullo e Tinturia. L'evento finale si è svolto in piazza Capur, dalle 20 alle 23, che ha visto la partecipazione di artisti di pregio, quali il cantautore e attore Leo Gasman e il rapper Shadé. Oltre a essere presenti sul palco, le massime autorità civili, militari e religiose, la dirigente scolastica Gabriella Bruccoleri, ancora una volta insieme, per dire no al bullismo. Il progetto pilota sia al vasso della collaborazione di partner come Telefono Azzurro, l'Associazione Carolina, l'Associazione Mabbast, il contributo della Polizia Postale, le associazioni locali, il parroginio del Comune di Favara, con l'intento di veicolare il messaggio sociale a partire dalla valorizzazione del territorio, del patrimonio locale e di tutta la comunità. Insomma, un grande percorso educativo che si sta svolgendo in tutta la Sicilia, con forme diverse ma con linee progettuali comuni, un immenso sforzo organizzativo per sensibilizzare, cambiare prospettiva, dotare di strumenti, creare legami per prevenire e contrastare il bullismo, quando ha dichiarato la dirigente scolastica Gabriella Bruccoleri, soddisfatta degli esiti di questa giornata memorabile. In piazza Ruggero VII a Palermo, il sindacato autonomo della Polizia di Stato ha ricordato le vittime di mafia in forza alla questura di Palermo. A pochi giorni dalla strage di Capaci, in piazza, la Ticon che resta della Quarto Savona 15, una delle squadre di scorta, dilaniata dalla floregazione dell'esplosivo usato per uccidere il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della Polizia di Stato, Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Il servizio da Palermo. Nessun uomo ha il diritto di togliere la vita a un altro essere umano. Con queste parole una piccola alunna dell'Istituto Nicolò Turisti di Palermo ha aperto la giornata della memoria e ricordo delle vittime della Polizia di Stato in forza alla questura di Palermo. Una celebrazione organizzata dal sindacato autonomo della Polizia a pochi giorni dal 32esimo anniversario della strage di Capaci. Incontriamo gli studenti, le giovani generazioni per far conoscere gli uomini e le donne che hanno sacrificato la vita per rendere il nostro paese un paese più vivibile per cercare di liberarlo dal cancro della mafia. Il SAP ogni anno nel mese di maggio su tutto il territorio nazionale organizza una giornata della memoria. Noi quest'anno su Palermo abbiamo pensato di fare questa giornata in questa piazza, una piazza centrale, una piazza importante per i pari permitani ed esporre per la prima volta in questa piazza la teca della Quarto Savona 15. Come ben sapete questa teca contiene l'auto di scorta del giudice Falcone, un'auto che per anni era stata abbandonata in un magazzino e poi per fortuna abbiamo pensato bene di poterla esporre e far sì che la coscienza degli italiani e dei palermitani in primis mantenga sempre un ricordo vivo. Gli cartelloni che vedete qui mostra ai bambini che sono qui in rappresentanza della scuola sono soltanto una piccola parte di tutto ciò che si verifica tra le pareti scolastiche e che questa organizzazione oggi ci ha dato il privilegio di portare in piazza e mostrare alla cittadinanza tutta. Simbolo della giornata ciò che resta della Quarto Savona 15, una delle auto di scorta diraniata dalla deflagrazione dell'esplosivo usato nella strage di Capaci dove persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonino Montinaro. La vettura da allora ha continuato il suo percorso nel nome della legalità e la teca con i resti e la macchina è stata esposta in tutta Italia a dimostrazione che la lotta a Cosa Nostra continua sempre e comunque. Non ci siamo mai fermate, abbiamo dimostrato che comunque quel giorno non li hanno fermati. Continuiamo ad andare avanti e i chilometri continuano a girare nella Quarto Savona 15. Cos'è cambiato in questi anni? Ma guarda, forse sono cambiati i nostri giovani, i nostri bambini. Bisogna lavorare molto anche sugli adulti perché sono rimasti quelli degli anni 80. degli anni 90 e quindi la pensano ancora in un certo modo, dovrebbero essere proprio loro visto che hanno vissuto quegli anni a trasmettere un cambiamento ai propri figli, ai propri nipoti. E si è conclusa a Palazzo Adriano l'esercitazione della protezione civile denominata Salomone 2024. A questo punto, se i due già sono qua, chiamiamo il campo base e attiviamo gentilmente l'unità cinofile, la ricerca. Si è conclusa oggi pomeriggio l'esercitazione Salomone 2024, organizzata a Palazzo Adriano, in provincia di Palermo, dal coordinamento Magna Vis Sicilia. In questa cittadina teatro dell'esercitazione, la cui forma attuale e larga parte risale al XV secolo, c'era per noi Sara Lapica, che ci racconterà i dettagli di questi tre giorni di addestramento che ha avuto il patrocinio del Dipartimento regionale della protezione civile siciliana. L'esercitazione è svolta al fine di mettere in campo tutte le componenti emergenziali della protezione civile. Ha visto impiegate associazioni di volontariato relative al soccorso tecnico in fune, al sanitario, all'antincendio e anche, per esempio, all'uso dei cinofili. Qui Artù. Artù. Cosa ha fatto Artù nell'esercitazione? Ha partecipato a delle ricerche sia in superficie che su uno scenario che abbiamo fatto per ricerca sotto macerie, a seguito di un'esplosione, tutto come si lavora nella realtà e questo è importantissimo, i fini formativi. Sono state fatte diverse prove, manifestazioni, addirittura c'è stato anche un momento, mentre si facevano le esercitazioni dell'antincendio, che è realmente scoppiato un incendio lì vicino. Magnavis compie 25 anni a gennaio del 2025, mentre il coordinamento è nato proporzionalmente alla Magnavis avanti ieri, ma bensì nel 2015. Ma tu hai trovato delle difficoltà in questa esercitazione? Hai trovato qualche cosa che non è andata tanto bene? Avendo sentore delle strutture che si sono rese in partecipe a questa manifestazione, non c'è stato nulla che non è andato per il verso giusto. Il T9MUF, buonasera, buonasera Sala Soris da India Tango 9, 8 novembre Quebec, Sala Operativa di Palazzo Adriano per esercitazione, avanti. 40 associazioni di volontariato che hanno partecipato provenienti da tutta la Sicilia. Un gruppo di queste associazioni è proprio iscritto al coordinamento regionale, mentre tutte le altre provengono dalle varie province. Hanno partecipato 210 volontari, 55 mezzi sono stati impiegati, 35 tende sono state montate, un gruppo elettrogino, l'impianto elettrico e tutte le altre attrezzature necessarie e occorrenti per realizzare il campo sono state fornite dal Dipartimento di Protezione Civile. In data odierna si è svolta la conferenza stampa presso il castello Fedeliciano. Guardando questi landi bucci sembra un po' tutto strano e lo vediamo da fuori, ma viverlo, anche sentire le sirene, vedere passare dalla piazza così di corsa, ci ha un po' promossi. Vuol dire che personalmente stavamo soddisfatto di quello di quanto fatto fino ad oggi. Queste associazioni quindi è un momento importante che tasta e testa il sistema del volontariato di protezione civile e di queste associazioni, le grosse organizzazioni, poi le altre, che sono le altre, ne devono fare un malattro. Questa è la sfida che io ho fatto, la sfida che ho fatto a Ferma. A gennaio è che è stata racconta, le creme, le associazioni di volontariato, quelle che hanno diversi distaccamenti del territorio, devono fare questo, devono esercitarsi, così come all'esercitazione dello partecipare, i fitness, i perchesi, perché si sono le autorità locali a un tipo di protezione civile. Chiaramente queste occasioni esercitative, oltre ad addestrare, a istruire e ad informare i volontari che sono sempre in continua crescita, servono per testare una serie di circostanze, verificare per esempio la capacità di allestimento di un campo base, verificare l'utilizzo delle unità civofine in caso di calamità notoriale, sia per la ricerca tra materie che la ricerca per i dispersi nel bosco, verificare il coordinamento tra le varie associazioni, che non è sempre facile da portare avanti, in quanto sono tante, composte da tantissimi soggetti. Poi per esempio sono utili anche per verificare l'utilizzo del supporto aereo e dei droni, e infine per verificare i sistemi e le procedure di comunicazione su tutto il territorio. E il coordinamento tra i sistemi di comunicazione è la nostra sala operativa che di solito dà regia a tutta questa attività emergenziale. Linea alla regia per la pubblicità I sette principi della cooperazione sociale da Milano a Palermo per uno sviluppo sostenibile se ne è discusso alle officine NOZE, ai cantieri culturali alla ZISA, a Palermo la corrispondenza. L'ICA, l'Allianz International Cooperative, ha rilanciato la discussione sui principi cooperativi e noi come Lega Coppa Nazionale abbiamo voluto riprendere questa occasione alla luce anche di due temi importanti, che sono quello dello sviluppo sostenibile e della coesione sociale. Così come oltretutto l'agenda 2030 ci, tra virgolette, indica come strategia per assicurare il benessere al pianeta e alle persone. E si è scelto di farlo in un modo partecipato. Cosa vuol dire? Vuol dire che saremo attorno a dei tavoli, come se fossimo in un bar ad un caffè a chiacchierare tra di noi e a questi tavoli si incontrerà il mondo della cooperazione proprio per confrontarsi e riflettere insieme su come questi principi possono essere aggiornati tenendo conto delle grandi sfide del terzo millennio. L'impegno del Movimento Cooperativo italiano, di Lega Coppa in particolare, è quello di rivisitare i principi cooperativi ma soprattutto di vedere nella contemporaneità un'attenzione particolare al mondo sociale, al mondo economico e anche al contributo verso il bene collettivo. Ci rendiamo conto che queste sfide non sono sfide locali, non sono sfide che si possono risolvere solo nell'ambito dei confini geografici o dei confini nazionali ed è per questo che quello che uscirà da incontri come questi noi le porteremo poi all'interno del dibattito internazionale. C'è un grande cambiamento dal clima all'innovazione tecnologica, la transazione digitale, la sostenibilità del welfare e quindi ci sembra giusto dopo più di un secolo verificare se i nostri principi sono ancora validi e quindi la cosa meravigliosa che in queste settimane in tanti paesi del mondo dove i cooperatori sono circa un miliardo, stiamo verificando assieme questi principi. Siamo molto felici di avere Lega Cop tra i partner del Festival dello Sviluppo Sostenibile organizzato dall'ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile che con i suoi 320 aderenti si propone di promuovere in Italia i temi dell'agenda 2030 dell'ONU e 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Il Festival è arrivato alla sua ottava edizione, per la prima volta Lega Cop e tra i partner del Festival abbiamo oltre 1000 eventi organizzati in tutta Italia e tra questi appunto gli eventi di Lega Cop organizzati a Milano e a Palermo proprio per promuovere tutti insieme i 17 obiettivi. La Guardia di Finanza incontra gli studenti di due istituti scolastici superiori messinesi in occasione dei suoi 250 anni di fondazione del corpo. Nell'ambito delle celebrazioni per il 250esimo anniversario della fondazione del corpo della Guardia di Finanza il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina ha avviato a livello locale una serie di iniziative volte tra l'altro a diffondere l'educazione alla legalità economica ed a crescere nei più giovani la cultura del rispetto delle regole. Nei giorni scorsi gli studenti di Messina degli istituti comprensivi Enzo Drago e Manzoni, Dina e Clarenza accompagnati dai loro docenti hanno fatto visita alla caserma Cutugno, sede del Comando Provinciale di Messina. Durante l'incontro le Fiamme Gialle e Peloritane hanno illustrato ai giovani studenti le missioni istituzionali del corpo ed il valore del rispetto delle regole, quale garanzia comune per una civile convivenza ed una cittadinanza consapevole nonché sul ruolo di cittadini attivi e in quanto tali titolari di diritti e di doveri. In tale ambito agli studenti è stato illustrato l'importante ruolo della Guardia di Finanza nel contrasto all'evasione fiscale, allo sperpero di denaro pubblico, alla contraffazione e alla tutela del diritto d'autore, nonché in materia di contrasto alla criminalità organizzata e allo spaccio di droga, con la finalità di creare un momento di riflessione sul concetto di legalità in generale e di sicurezza economica e finanziaria in particolare. Gli studenti, mostrando vivo interesse ed una contagiosa curiosità, hanno inoltre visitato una parte dei nuovi locali della caserma, recentemente inaugurati, al cui interno è stato allestito, tra l'altro, un piccolo angolo della memoria, dedicato alla storia della Guardia di Finanza della provincia di Messina. La mattinata è proseguita con le esercitazioni delle unità cinofile del corpo, sviluppate attraverso la simulazione dei tipici controlli eseguiti presso i porti, gli aeroporti e le stazioni ferroviarie, significativi del quotidiano impegno nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e ricerca del denaro occultato, permettendo al contempo di familiarizzare con gli splendidi amici a quattro zampe. L'iniziativa testimonia, ancora una volta, la vocazione sociale e la costante vicinanza del corpo al mondo della scuola e agli studenti, con il fine di stimolare la loro sensibilità nei confronti della legalità e renderli sempre più parte attiva per un mondo migliore. Passiamo alle notizie sportive, la fortitudo vince chiusi per 91-94, risultato importante per la permanenza nella serie, ora inizia il girone di ritorno. Prossimo appuntamento a Nardò il 26 maggio. Il servizio. Sì, è stata una maratona, indubbiamente, penso si sia visto di tutto oggi, anche se fosse entrato l'ultimo tiro di Ierkovic non mi avrebbe stupito particolarmente perché ho visto quello che è successo, però devo dire che in questo periodo io ho parlato tanto di motivazioni perché noi siamo in una situazione di classifica molto difficile e quindi abbiamo sempre parlato di quanto sia difficile motivarsi a giocare queste partite sapendo che questa poteva essere la pietra tombale sulla stagione. Abbiamo giocato un primo tempo povero di energie, scarico, dove anche quelle cose che avevamo preparato non venivano ma che era una semplice questione di energia e qui se ne era di più. Devo dire che nello spogliatoio penso che il mio discorso sia stato abbastanza incisivo ma ho parlato solo di questioni mentali e la dimostrazione è che, l'ho detto anche ai ragazzi scherzando, adesso alla fine, che paradossalmente eravamo più freschi al cinquantesimo che al secondo minuto di partita, quindi questo la dice lunga su come la testa fa tantissimo. Certo prendiamo due punti che oggi sono fondamentali perché ci riavvicinano a chiuse, adesso aspettiamo il risultato di 100 Nardò, se dovesse vincere 100 è chiaro che abbiamo stretto la classifica, adesso siamo al giro di Boa, ci sono altre cinque partite, dieci punti e incredibilmente torna tutto in ballo, quindi vittoria capitale, sono felice perché in un anno un po' povero di soddisfazioni, penso che per lo spirito l'hanno dimostrato i ragazzi, ma tutti noi ce lo impediamo. A proposito del giro di Boa, un mini bilancio di queste cinque partite, tre vittorie e due sconfitte per voi, anche le sconfitte a parte a Roma, tutte sul filo, quella con 100 mi riferisco in casa, insomma direi che il bicchiere è mezzo pieno. Senza ombra di dubbio io posso considerare veramente un passo falso solo la trasferta di Roma, dove io all'inizio di questa partita ho avuto un po' il déjà vu per tanti motivi, perché affrontavamo Chiusi che veniva da un'altra partita in casa e noi invece venivamo da una trasferta, è successa la stessa cosa a Roma e c'avevo questo déjà vu della mancanza di energie che avevamo e temevo potesse riprendere quel copione, però invece la partita che abbiamo giocato in casa con 100, quella è stata una partita veramente decisa da Mussini che ci ha spaccato la partita nel quarto quarto, ma l'abbiamo giocata, forse anche una delle migliori che abbiamo giocato. Chiaramente il bilancio è positivo a livello aritmetico, è chiaro che adesso non ho i conti alla mano, ma a noi serve cercare di vincerne il più possibile, perché chiaramente non possiamo pensare ai risultati degli altri, però questo è lo spirito, io sono convinto che nonostante adesso abbiamo un rientro che non è dei più comodi come sempre, però questo ci dà almeno le energie nervose e mentali di tornare col sorriso e non tornare magari con l'enorme delusione di aver lasciato qui una partita dove comunque alla fine dei regolamentari e del primo tempo supplementare costruiamo due ottimi tiri, alla fine del primo supplementare era un lay-up che sbagliamo, quindi dai, bene così, sono contento, adesso un attimo di pausa, chi chiusi non avrà perché deve recuperare l'infrasettimanale, però noi ci prendiamo qualche giorno e avremo un Ardò in casa alla prossima. Pausa arriva nel momento migliore? Sicuramente perché siamo abbastanza raschiando il fondo del barile, oggi poi non avevamo sperduto, abbiamo recuperato Fabi, diciamo che se riuscissimo ad avere l'oster al completo sarebbe una gran cosa perché in questa fase il dispendio di energia è sovranaturale, però adesso spero che anche sperduto riesca a recuperare, veramente cade da una manna dal cielo questa pausa, quindi ce l'auguriamo. Bene, questo è tutto per TVA Notizie di oggi, vi ricordiamo che i nostri programmi sono visibili in streaming su www.televideagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle ore 15 e alle ore 20 in replica la mattina alle 9 e sul canale 268 per le Smart TV in tutta Italia. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata. Grazie.